Allora sì sì, brindiamo a cosa? Alla vita. Alla vita. Allora brindiamo, brindiamo fino a quando non vediamo la Madonna. Quando esce la Madonna, riprendi lui. Quando esce la Madonna ce ne possiamo andare. Ah ok, allora brindiamo aspettando la Madonna. Io sono Bernadette. Martino. Martino, quello che ho visto sul calendario. Martino, voi invece come chiamate? Sì sì sì. Come una principessa.